madonna ragazzi che delusione che delusione ma non per il risultato perché ci può stare il pareggio ma pareggiare così e prende cioè fare il gol a tempo scaduto e pareggiare all'azione dopo madonna che mazzata in testa comunque vabbè dai niente negatività e abbiamo fatto un grande primo tempo ce la siamo giocata nel secondo tempo e il punto è tanta roba ragazzi tanta roba guardate sto cercando di impegnarmi ad essere positivo il punto è davvero tanta roba oggi cioè io non lo sono adesso ditemi voi se siamo salvi o no però ragazzi che delusione mamma mia e gagliardini c'è quello giocava in champions con l'inter vabbè lasciamo stare non mi interessa cristovic un partitone un partitone poi parliamo anche dell'albitro domani perché c'è non ammonire col pani quando gendresi ne stava andando in ripartezza da solo sulla fascia dopo la punizione loro e l'ammunizione a cristovic c'è proprio cose poi andiamo voglio vedere pure il tocco di mano loro nel primo tempo visto che a noi ci ha messo in seconda a dare il rigore e per il resto ragazzi davvero che delusione che delusione datemi il tempo di assorbire questa delusione perché giuro il pareggio è tanta roba ma così no così no c'è così è brutto mamma mia che brutto comunque lecce io voglio andare a prendere il genoa voglio andare sopra il genoa voglio finire e oggi dovevamo vincere mamma mia che delusione ragazzi domani parliamo di tutto parliamo di tutto perché oggi devo sbollire questa rabbia che c'ho sopra e che solamente quel questo video mi permette di non farvi vedere ciao ragazzi